anche in Svizzera hanno 60 decessi all'anno per attraversamento pedonale persone che attraversano sulle strisce allora vi spiego un attimo la normativa nel 2010 è cambiata la normativa per cui se prima il pedone doveva aspettare che tutte le macchine passassero per poter attraversare adesso il pedone ha diritto di attraversare sulle strisce pedonali prima del veicolo allora la norma dice questo non dobbiamo andare oltre la norma perché morire e avere ragione non è consigliabile allora noi quando ci approssimiamo ad attraversare la strada abbiamo l'obbligo di attraversare sulle strisce pedonali sempre se ce l'abbiamo a meno di 100 metri di distanza da dove siamo non possiamo permetterci ma lo facciamo tutti i giorni di attraversare la strada in maniera obbligua cioè anziché farlo in 4 metri in 17 iniziamo qua facciamo una passeggiata in maniera obbligua quindi massima attenzione quando attraversiamo la strada